Stamane, nonostante i mezzi ATM non si siano fermati a causa dello sciopero, Milano si è ritrovata nel caos. Tantissime le auto in strada, un traffico paralizzato sia per la minaccia di serrata della metropolitana dalle 18, cosa che puntualmente si è verificata, sia per il corteo dei sindacati che ha attraversato le strade del centro cittadino. Proseguono le attività per prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca e il sequestro di capannoni adibiti a discariche abusive. Oggi è toccato a una struttura nei pressi di Arluno con i carabinieri e i colleghi del NOE che stanno ancora analizzando il materiale rinvenuto all'interno. Tiene banco la vicenda dell'ex chiesa dei frati Cappuccini all'interno degli ospedali riuniti di Bergamo che dopo l'esito dell'asta pubblica di ieri sembra destinata a diventare una moschera. Il sindaco Gori attacca la regione, l'assessore Foroni chiede la revoca dell'assegnazione. Si terrà domani alle 10 di mattina l'inaugurazione della biblioteca degli alberi, il parco tra i grattacieli di Porta Nuova. A 14 anni dal barro del progetto arriva il taglio del nastro di uno degli interventi urbanistici più attesi nel capoluogo Lombardo. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Terenova e con il nostro TGN che si apre con gli aggiornamenti rispetto a questo venerdì nero per Milano e i milanesi perché dalle 18 tutte e quattro le linee della metropolitana sono chiuse e quindi il caos di questa sera è paragonabile, anzi probabilmente sarà anche peggiore rispetto a quello di questa mattina quando i treni erano fermi, gli autobus e i tram sono andati un po' a singhiozzo mentre le metropolitane hanno funzionato. Tante e tantissime auto come vedete questa mattina traffico in tilt, un incubo per i milanesi che hanno dovuto fare i conti con code e strade bloccate in gran parte della città. Allo sciopero generale si è aggiunta una manifestazione dei sindacati e questa concomitanza ha inevitabilmente mandato nel caos la circolazione con traffico e file che sono state segnalate in diversi punti di Milano soprattutto nell'orario di punta di questa mattina a causa dello sciopero dei mezzi. I treni erano fermi da ieri sera mentre abbiamo raccontato della mattinata e soprattutto di quello che sta accadendo adesso dalle 18 quando tutte le quattro linee del metro sono bloccate. I pendolari non hanno potuto far altro che affidarsi alle proprie auto tanto che in mattinata le metropolitane, purché aperte, erano insolitamente vuote. A peggiorare la situazione è stato un corteo organizzato dai sindacati per chiedere più diritto e più rispetto per i lavoratori. Il serpentone dei manifestanti è partito da Largo Cairoli per poi arrivare in piazza San Babila passando per via Cusani, via Dell'Orso, piazza della Scala, via Meda, Corso Matteotti, insomma ha fatto il giro di tutta la parte centrale del capoluogo Lombardo. Queste le notizie e gli aggiornamenti rispetto allo sciopero di oggi. Adesso passiamo alla cronaca perché grazie a una segnalazione arrivata alla compagnia dei carabinieri di Legnano e ad Arluno è stato individuato e sequestrato un capannone trasformato in una discarica abusiva di rifiuti. Il servizio è di Paolo Pirovano. I carabinieri di Legnano con i militari del nucleo operativo ecologico hanno sequestrato un capannone di un'azienda di logistica trasformato in una discarica abusiva di rifiuti ad Arluno in provincia di Milano. All'interno erano stoccati circa mille metri cubi di rifiuti per lo più di materiali plastici che secondo gli inquirenti avrebbero potuto essere dati alle fiamme entro pochi giorni. Grazie alla segnalazione di alcuni residenti infastiditi dal cattivo odore proveniente dal capannone sono partiti i controlli del NOE che in queste settimane sta lavorando proprio per prevenire il fenomeno di questa tipologia di incendi nel milanese. Il quantitativo e la tipologia di rifiuti rinvenuti sono tali da potersi ipotizzare non solo alla realizzazione di una discarica abusiva ma anche un'illescita attività di gestione, raccolta e smaltivento di rifiuti speciali. Per questo il responsabile della dita è stato denunciato in stato di libertà e segnalato alla procura della Repubblica di Milano per gestione illecita dei rifiuti. Il capannone industriale del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro mentre sono già in corso le attività di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti. C'è un'ultima ora rispetto alla vicenda dell'ex chiesa dei Capuccini, dei frati Capuccini che si trova all'interno dell'area degli ex ospedali riuniti di Bergamo che era andata all'asta e asta vinta dall'associazione musulmani della cittadina lombarda e ha parlato il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana che ha detto il simbolo della cristianità della cappella della chiesa casa frati di Bergamo sarà salvaguardato perché regione Lombardia farà valere il diritto di prelazione. Questo il suo annuncio specificando che il bando sostanzialmente curato da infrastrutture lombarde non finirà come in teoria dovrebbe vista la vittoria dell'associazione musulmani perché la chiesa dei frati è vincolata dal ministero dei beni culturali e la sua vendita può essere effettuata solo con le modalità disposte da un decreto legislativo in materia di beni artistici che prevede tra l'altro che la compravendita del bene possa avvenire solo e soltanto se lo stato la regione o il comune non esercita un diritto di prelazione dell'acquisto. Diritto ha detto Fontana di cui regione Lombardia ha deciso di avvalersi ha già parlato anche con chi lì è stato per anni e cioè la comunità ortodossa rumena di Bergamo rassicurandoli e dicendo che regione Lombardia acquisterà la chiesa e la struttura e quindi si avvarrà del diritto di prelazione. Dovrebbe chiudersi così una vicenda che ha creato molte polemiche nelle ultime ore sia oggi che nella giornata di ieri a quando risale in mattinata la chiusura della gara vinta dall'Associazione dei Musulmani. Torniamo a Milano perché dopo 14 anni dall'inizio del progetto il capoluogo Lombardo avrà il suo nuovo parco, la biblioteca degli alberi tra i grattacieli di Porta Nuova, l'inaugurazione domani alle 10 alla presenza anche del sindaco Sala, il servizio di Alberto Carreras. Da domani Milano avrà un nuovo parco, la biblioteca degli alberi a Porta Nuova è una realtà, un'area verde che collega piazza Gaia Olenti a Melchiorre Gioia al quartiere Isola, uno spazio gradevole di benessere racchiuso tra moderni grattacieli. Il nuovo parco è stato realizzato da Coima tra i principali costruttori milanesi nell'ambito del progetto urbanistico che ha trasformato e sta trasformando le ex Varesine. La superficie è di circa 10 ettari e il terzo parco per vastità del centro di Milano. La biblioteca degli alberi è composta da 45 mila bulbi, 450 fusti, 90 mila tra piante, arbusti, siepi e via dicendo. Non solo verde ma anche didattica per comprendere il mondo dei vegetali. La biblioteca degli alberi non è recintata ma la manutenzione tra telecamere, vigilantes e cura del verde costerà 3 milioni di euro all'anno. In programma in questo spazio, spettacoli ed eventi sino alle 23 di sera. Ci sarà anche un chiosco di ristorazione. Alcune aziende si sono fatte avanti per sponsorizzare questa nuova area. 90 mila piante, 450 alberi sono una ricchezza che ovviamente va curata con grande attenzione e continuità. Il presidente di Coima, Manfredi Catella, ha detto che si tratta dell'ultimo tassello della riqualificazione dello Scalo Varesine, il primo completamento raggiunto dal dopoguerra ad oggi. È un sogno che si realizza a 14 anni di distanza dall'idea iniziale. Vi ricorderete tre morti e 46 feriti, questo era il bilancio, è il bilancio dell'incidente ferroviario di Pioltello, accaduto alla fine del mese di gennaio. Adesso esce una notizia, cioè che si sarebbe potuto evitare. Vediamo nel servizio di Paolo Pirovano chi lo sostiene e perché. Un rapporto dettagliato dell'Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che terminava con la raccomandazione a rete ferroviaria italiana di garantire una manutenzione adeguata, aveva denunciato problematiche manutentive sui veicoli e sulle rotaie. La data è del 15 gennaio 2018, dieci giorni prima della strage di Pioltello, che il 25 gennaio ha provocato tre morti e 46 feriti. L'incidente di Pioltello, il distacco cioè di un pezzo di rotaia di 23 centimetri e il deragliamento del treno, non è incluso nel dossier che riguarda dati del 2017, ma il riferimento pesa come un macigno. Nel 2017 sulla rete RFI sono avvenuti quattro deragliamenti fortunatamente senza vittime. Episodi che hanno portato ad accendere un faro sulla manutenzione, si legge nella relazione, aspetto fonte di criticità confermatasi in occasione del gravissimo incidente di Pioltello. Lo scorso anno sulle reti regionali è avvenuto un solo deragliamento riconducibile, anche in questo caso, a problematiche manutentive dell'infrastruttura. Le analisi di questi eventi confluirono nella raccomandazione, inviata a tutti gli operatori ferroviari a metà gennaio, con cui l'ANSF chiedeva un riesame complessivo dei processi interni per garantire un efficace presidio della manutenzione. Una tragedia che ha spinto l'autorità a impartire una ulteriore disposizione nei confronti di RFI, definendo azioni immediate, a breve e a lungo termine, finalizzate a un riesame complessivo dei processi interni per garantire un efficace presidio della manutenzione. Protesta sindacale stamane davanti alla sede della multinazionale svedese Sandvik per il licenziamento di otto lavoratori. Secondo i sindacati, appunto, l'azienda produce ottimi profitti e ha sedi in tutto il mondo con decine di migliaia di dipendenti. A nulla, però, sono finora gli incontri per giungere al ritiro di questi otto licenziamenti. I lavoratori della Sandvik di Milano, multinazionale svedese dell'acciaio, hanno protestato oggi davanti alla sede aziendale in via Varesina. Improvvisamente è scattato un licenziamento collettivo per otto dipendenti, tutte persone ancora lontane dall'età di pensionamento. La motivazione è data dal fatto che nella sede di Milano verrà dismessa la parte produttiva, mentre resteranno gli uffici. Secondo i sindacati, la multinazionale sforna annualmente fatturati miliardari e possiede decine di migliaia di dipendenti nei siti sparsi per il mondo. E dunque si chiedono se otto persone possano rappresentare un problema economico. Perdere il lavoro a 51, 52, 53 anni, hai ancora dieci anni per andare in pensione e sei nelle condizioni. Una multinazionale riduce in povertà otto famiglie, questo è il punto e il dato di fatto. Al di là delle leggi, delle interpretazioni e delle possibilità, però oggi una multinazionale mette sull'astrico otto famiglie. Nell'incontro avvenuto ad Asso Lombarda il 19 ottobre, l'azienda ha dichiarato di essere disponibile a discutere soluzioni alternative ai licenziamenti, ma i sindacati lamentano che l'unica disponibilità è quella di monetizzare la perdita del posto di lavoro. L'impresa vorrebbe fare un accordo di natura economica, però di natura economica è impensabile perché i lavoratori oggi hanno veramente bisogno di rimanere al lavoro, di trovare una ricollocazione all'interno della multinazionale. Pioverà, pioverà per tutto il weekend e probabilmente anche lunedì, queste sono le previsioni del tempo, è arrivata e sta arrivando anzi una perturbazione e le piogge potrebbero anche essere di entità superiore alla media. Servizio. Si annunciano tre giorni di piogge temporali anche molto forti sul nord Italia e sulla Lombardia. Secondo gli esperti sarà un weekend con intenso maltempo e rischio, nubi fragili. Non sono escluse zone dove la pioggia potrebbe cadere con una quantità di 150-200 litri per metro quadrato. Diciamo che avremo un progressivo peggioramento sulla Lombardia dove è atteso un generale aumento man mano sempre più di questa nuvolosità, proprio a partire dalle pianure dal milanese e quindi questo grigio che porta le prime piogge che risulteranno sicuramente più diffuse sulle prealpi. Marginali sulle zone di pianura oggi con un clima leggermente più fresco nei valori diurni, proprio complice questa nuvolosità. Però appunto, come avete ben detto, piogge e acquazzoni man mano caratterizzeranno il tempo per più giorni, compreso il weekend, anche di forte intensità a tratti, seppur a fasi alterne per quanto riguarda proprio l'intensità. Forse il clima di quest'ottobre ci sta per lasciare, anche se le temperature continueranno ad essere al di sopra delle medie del periodo. Le temperature comunque per il momento non prevedono un particolare tracollo, ma appunto complice la nuvolosità e la pioggia sentiremo comunque un po' più fresco, ma i valori non sono freddi. Domani quest'area di bassa pressione porterà a piogge rovesci diffusi, quindi nella giornata di sabato avremo pioggia. Adesso un'ampia pagina dedicata alla cultura e in particolare alle mostre. Partiamo da quella delle gallerie d'Italia in Piazza della Scala e del Museo Pol di Pezzoli che presentano da oggi al 17 marzo la rassegna Romanticismo, la prima dedicata al contributo italiano al movimento che ha cambiato la sensibilità e l'immaginario del mondo occidentale nel corso della prima metà dell'Ottocento. Sono 200 le opere selezionate, di queste 42 non sono mai state esposte prima d'ora, provengono per lo più da collezioni private e comprendono esemplari di Caffi, Hayez, Induno, Molteni. 14 opere inoltre non sono mai state viste in Italia e giungono dalle più importanti istituzioni museali estere, quali il Belvedere di Vienna, l'Ermitage di San Pietroburgo, da cui giungono capolavori di Friedrich e la National Gallery di Londra che presta un dipinto di Corot. Milano è la città italiana che più di tutte indubbiamente ha avuto in quegli anni una vocazione europea, è stata uno dei centri della civiltà romantica, sia per quanto riguarda le arti figurative che sul versante letterario e musicale. Adesso ascoltiamo le parole di presentazione di questa mostra duplice, da un certo punto di vista, della direttrice del Museo Pol di Pezzoli e del curatore di questa mostra. Le ascoltiamo. Il Museo Pol di Pezzoli partecipa a questa mostra perché è di fatto uno dei luoghi del romanticismo milanese. Quindi non si tratta solo di esporre delle opere, ma di entrare in modo immersivo in quello che è stato il palazzo, in quella che è stata la vita, la storia del gusto e dell'atmosfera in cui vivevano questi personaggi. In mostra c'è un continuo dialogo anche tra la letteratura e le arti e soprattutto nella grande sala centrale in cui è revocata la figura di Manzoni attraverso due ritratti straordinari e attraverso le immagini dei personaggi più popolari dei promessi sposi. Si apre invece domani la mostra che la Veneranda Fabbrica del Duomo ha dedicato a Lucio Fontana. Fino al 27 gennaio la sala Giangaleazzo del Museo del Duomo ospiterà la rassegna che si inserisce nel palinsesto dell'ampia iniziativa culturale del Comune di Milano dedicata al 900 italiano e milanese. Anna Maria Braccini, il servizio è suo. Novissima. Così la Veneranda Fabbrica definì l'arte di Lucio Fontana l'indomani della rappresentazione della sua proposta per l'allora incompiuta quinta porta del Duomo tra il 1955 e il 1956. E così, arte novissima, si intitola anche la rassegna che fino al 27 gennaio 2019 illustrerà all'interno della sala Giangaleazzo del Museo del Duomo proprio il rapporto tra il grande artista scomparso esattamente 50 anni fa nel 1968 e la cattedrale. Patrocinata dall'Arcidiocesi e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da vari ministeri da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, la mostra si inserisce all'interno del palinsesto della più ampia iniziativa del Comune di Milano 900 italiano. È una storia che davvero va conosciuta e approfondita perché testimonia la grande relazione e rapporto che soprattutto nel 900 gli artisti della nostra città hanno saputo costruire con il tema del Sacro. Rassegna che è organizzata in tre sezioni e che ripercorre l'avventura creativa di Fontana appunto in Duomo, cominciata nel 1935 tramite l'incarico di una statua per l'interno della cattedrale San Protaso del 1940 e proseguita con il concorso del 1950. Oltre al bozzetto della Quinta Porta, il percorso espositivo comprende anche il Cavaliere in gesso e alcuni fusioni in bronzei dei bozzetti creati da Fontana per la cattedrale. È noto che il concorso indento dalla fabbrica per la Quinta Porta della cattedrale fu vinto ex sequo da Luciano Minguzzi e da Lucio Fontana e che la sua realizzazione venne infine affidata al primo. L'arte di Fontana fu infatti all'epoca giudicata nuovissima. Ci spostiamo a Palazzo Reale dove è invece già possibile visitare quella che per molti è già la mostra dell'anno, una retrospettiva ricca e interessante. Su Pablo Picasso ce ne parla nel primo appuntamento della rubrica A caccia di mostre, da lui curata, Aristide Malnati. Palazzo Reale cala un asso vincente e ospita la mostra evento dell'anno. Nelle sale della storica struttura di Piazza del Duomo è in corso fino al 17 febbraio 2019 una retrospettiva su Pablo Picasso, genio assoluto della pittura del XX secolo. Picasso Metamorfosi, questo il titolo della rassegna milanese, offre una visione totalizzante dell'arte del pittore spagnolo. Indaga cioè i modelli classici di molte delle opere che qui vengono esposte, nella consapevolezza che l'arte non si genera dal nulla, ma che per forme e contenuto spesso gli artisti prendono spunto dal passato. L'arte è un flusso continuo di forme e contenuti. Ogni artista dunque, chi più chi meno, tiene conto delle opere a lui precedenti. E' quindi giusto ricercare dei riferimenti al mondo antico anche in un genio come Picasso, proprio come fa la mostra Palazzo Reale. Così sono in mostra oltre 200 pezzi tra opere di Picasso e manufatti antichi, per lo più statuette, a cui il genio spagnolo si è ispirato. Tra i quadri dell'artista da ricordare opere famose come Il bacio, l'abbraccio e la serie di nudi, ad iniziare dal nudo disteso, che ben evidenziano la raffinata e delicata sensualità di Picasso. La rassegna milanese è l'ultima di una serie che permette di affermare, come ha fatto il sindaco Giuseppe Sala, che Milano e Palazzo Reale sono la casa italiana di Pablo Picasso. Palazzo Reale non è stato scelto a caso. Qui già in passato sono stati presentati i capolavori di Picasso. In primo luogo ricordiamo La Guernica, una delle sue più celebri opere, esposta nel 1953 nella Sala delle Cariatidi. Poi altre importanti rassegne dell'artista spagnolo nel 2001 e nel 2012. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, dopo di noi ovviamente Nova Stadio TG e poi Nova Stadio Sprint per parlare di calcio, soprattutto della crisi del Milan e alle 20.30 la politica con Adriana Santacroce e la sua linea d'ombra. Il faccia a faccia sarà sui reati con Mirko Mazzali e Fabio Rubini, soprattutto con un focus su Milano, mentre la seconda parte, il talk di politica, verrà animato dall'analista economico Massimo Scolari, dal leghista Angelo Ciocca, da Stefano Maullu di Forza Italia e Gian Antonio Girelli del PD. Si parlerà di legittima difesa e ovviamente della manovra. Questa è la serata su Telenova. Restate con Noi.